La partecipazione vuol dire riconoscere alle persone la titolarità e la competenza di stare all'interno del proprio progetto che è il progetto di vita. È il diritto a poter prendere in mano la propria vita ed esserne il vero attore protagonista. Partecipazione è un po' tutto. Avere un riscontro rispetto a come la pensiamo, ma anche per far sì che la nostra parola magari possa essere d'aiuto a qualcun altro. È scelta, è scelta di ascolto, è rispetto. Io ci sono, ho tempo per te, io posso migliorarti perché tu sei in grado di migliorare te stesso. È un obiettivo mio, è un obiettivo nostro, una lotta che con gentilezza e delicatezza dobbiamo continuare a portare avanti. È un valore quando ti costringe a produrre vita. È un modo di rispettare la propria storia e il proprio vissuto. Possiamo dire che la partecipazione funziona nel momento in cui i nostri ragazzi sono stati in grado di farci cambiare idea, quindi di stravolgere quella che era la nostra idea di loro e quindi il nostro modo di vederli.